ciao ragazzi e ben ritrovati l'appuntamento del giovedì che oggi non sarà dedicato al consigliato da carfish online ma carfish online cede lo spazio al tu per tu e oggi quindi è venuto a trovarmi e ho anche piacere di averlo qua con me per una chiacchierata il mio primo boilers maker che ho portato all'interno del tu per tu che è il boilers maker di casa any water diego anconetani ciao ricola ciao carissimo ben arrivato mi fa piacere averti qua grazie a bella ospitalità ma scherzi in questo ci mancherebbe e sai che io non ho mai avuto un boilers maker qua ad intervistare quindi ti spiego la chichierata tu per tu nasce tra chi lavora nel settore pesca e interagisce con me per poi dare anche dei consigli a chi ci sta seguendo da casa di come voi vi approcciate le vostre tecniche di pesca i vostri ambienti di pesca più graditi quelli che vi piace più pescare dove vi immergete più spesso le vostre lenze quindi portare anche dei consigli delle diciamo anche dei segreti vostri di pesca in questo format perché possono essere spunto anche per tutti coloro che da casa ci guardano e magari vogliono trarre spunto da questa nostra cacchierata bella cosa ti piace sì ecco di solito io parto sempre un po prima di parlare e di andare sul mondo pesca parto sempre un po da quello che è la storia del personaggio che ho qua con me quando ho avuto per esempio michele vallesi abbiamo parlato di come è nata any water avendola fondata lui per quanto riguarda te invece come è stato il tuo primo approccio con michele e con l'azienda any water il mio approccio con con any water è nato nel 2013 ormai 10 anni fa sì era giugno ero in pesca sul lago di caccamo e in una bella sessione che ricordo era una bella sessione avevo fatto due pesci enormi in un pomeriggio mi contatta michele e mi dice guarda stiamo aprendo un'azienda di esche e ci servivano stavamo parlando con persone per 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 metter su un team se ti fa piacere ci aggiorniamo prossimi giorni ci sentiamo e ti faccio vedere i prodotti ne parliamo e e da lì da cosa nasce cosa e da lì è partito tutto il progetto che adesso è any water sono stato nel team da allora fino fino ad oggi ha sempre partecipando attivamente quindi con tutto quello che c'era da testare eccetera poi dopo con michele è nato anche un un'amicizia che andava oltre magari oltre oltre la pesca quindi ci si vedeva anche oltre il fatto della pesca e poi da quest'anno da quest'anno da gennaio di quest'anno sono entrato a far parte proprio dell'organico dell'azienda sono sono entrato proprio a lavorare in any water quindi tu hai fatto una scelta di vita perché hai emulato un lavoro per andare a lavorare per l'azienda any water e sei colui che produce boilers parte del boilers di any water si si parte di boilers di any water si e quindi c'è all'interno della catena produttiva dell'azienda quindi ecco abbiamo per tutti gli amanti del marchio any water abbiamo proprio qua con noi oggi proprio colui che realizza quelle boilers che poi dopo venite da me a trovarle nei sacchetti già confezionati questo è il signore che le produce con le sue manine si 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 e per me ecco è stato come diciamo un piccolo sogno no comunque sia ho la passione per la pesca da sempre da fin dall'adolescenza e quindi ad oggi arrivare a lavorare per la tua passione penso sia una buona soddisfazione io direi e con tutti i sacrifici che comporta comunque sia sempre un lavoro però si cerca sempre di portare passione nel lavoro e dare sempre il massimo e farlo con estrema enfasi diciamo ma tu hai iniziato a pescare giovanissimo le carpe e si all'età di 13 14 anni perché già con la tecnica car fishing no all'inizio classica tecnica galleggiante mais eccetera poi si inizia a comprare i primi giornali all'epoca i primi giornali e da lì è sfociata la passione car fishing all'età del classica età che si prende il motorino e da lì ho cominciato a frequentare cavette che si ha intorno casa che da noi ce ne stanno anche di abbandonate si 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 cave libere parlo e quindi con tutto quello che ne comporta attrezzatura trasportata lungo i campi eccetera cose che adesso si vedono più poco magari adesso macchina dietro super carica attrezzatura che tante volte non serve le cose si si quello ormai è il mondo di oggi e poi da lì quando uno cresce certo cerchi esperienze nuove quindi magari già qualche anno dopo siamo andati a fare un paio di sessioni in francia lago de saint cassien ci siamo un po iniziato a capire l'utilizzo della barca comprare attrezzatura più performante e specifica che comunque a parte che tu vieni da una zona che è molto ricca di laghi di cave laghi ne diciamo le marche non siamo famosi ma lì vicino sì 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 nel senso no nel senso no che ce l'hai dietro casa però nel raggio di 300 chilometri trovi tanto perché trovi laghi vulcanici tipo Bocena quello sì si parla di spostamenti di due o un paio delle marche d'ora e mezzo però sì certo sì 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 perché lago di Bocena ce l'hai relativamente vicino due ore e mezzo poi c'è anche Turano il Salto sì sì Caccamo a quanto ce l'hai Caccamo? Caccamo ce l'ho a un'oretta però praticamente lavoriamo l'azienda sta tipo a due chilometri dell'ago di Caccamo quindi capita spesso volentieri che usciamo da lavoro furgoni carichi e si va 4 e mezzo 5 si esce a lavoro e si va a pescare fino alla mattina dopo che poi si torna a lavoro quindi tu adesso in tutti questi anni tu hai maturato una forte esperienza della pesca nei grandi laghi sì perché penso di aver capito che è la pesca principale sì soprattutto dopo che sono entrato a far parte di water da sia a partire dal team che ad oggi che ci lavoro ho avuto modo di fare molte esperienze in questi ambienti quindi tu sei un forte utilizzatore delle della barca sì 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 la pesca alla barca esatto quella proprio la tua pesca diciamo sì e quindi usirai delle dici piedi presumo come carne 10 piedi ti troverai meglio con 10 piedi sono più ideali per la pesca da natante giusto? è un altro mondo sì treccia e calate a lunga distanza quando shock leader calate preferisco rimanere in una pesca a corto raggio sì è una cosa di praticità comodità è meno stancante rimane più concentrato anche una partenza notturna andare a ricalare a 500 metri è sempre per quanto tu voglia però più riesco a stare se trovi degli spot vicini li sfrutti sicuramente non devi necessariamente andare a sbobinare a mulinello se proprio non trovo niente allora sono disposto arrivare sulla luna però se trovo ostacoli o hotspot a raggio corto li sfrutto sicuramente perché è anche meno spendioso dal punto di vista delle batterie e tempi di calato più leggero mentalmente soprattutto quindi anche non prendi carpe ma per tua sfortuna hai sotto le scardole andare a ricalare quattro cinque volte a notte da 400 metri per pescare magari la scardola che non è il pesce nostro è ma è a proposito che ti ho mandato proprio in là la prossima domanda al di là della distanza di calata ma rimane comunque che magari ti trovi soprattutto nei periodi tarda primavera e l'estate dove il pesce di disturbo è più attivo si ti puoi trovare negli spot dove tu hai pasturato una forte presenza di pesce di disturbo la brema la scardola magari non so adesso dipende anche quali ambienti il pesce gatto si che cosa fai hai una strategia per cercare di andare ad avere meno toccate ad avere meno meno pesce che si aggancia al tuo amo di disturbo e riuscire a rimanere in pesca più a lungo allora abbiamo fatto proprio una pescata l'ultima settimana di agosto quindi temperature torride che scrive dalla barca in un lago vulcanico e avevamo paura di essere attaccati alle scardole perché ce n'è forte presenza in questo lago allora quindi ti posso dire che la pescata si è conclusa con 18 19 pesci in due non ricordo bene 18 19 pesci con 0 scardole quando ci avevamo un grande timore di essere invasi alle scardole pasturazione 20 mm e così è stato gli inneschi abbiamo optato per la 30 affondante boiles da 30 mm affondante harduk bait su spinner rig con capello spinner rig un capello e ormai sono due terminali che non si può uscire senza quali sono i preferiti spinner rig e spinner i rig con capello è difficile sì se capita di pescare al lancio dove c'è un fondale dove c'è delle micro alghe tappeti morbido che è ultimamente mi piace approcciare con un chod però resta sempre led clip e spinner quindi tu beh in chod peschi in pop up si questo però il chod vai a utilizzarlo quando c'è tanta alga quando devi staccarti un po dal fondale o magari al fondale postulente mi serve stare sicuro che non vado proprio in mezzo allo sporco diciamo quindi vuoi essere sicuro che la tua esca sia ben visibile si è fuori da ogni possibilità che ti può mettere il terminale fuori certo certo ma per tutte le situazioni in cui magari peschi in un fondale ghiaioso limoso solo spin e affondante o prediligi comunque un assetto abbastanza bilanciato spinner pop up mentre con lo spinner con il capello quindi spinner rig sia affondante che omino di neve che singola bilanciata ok qualsiasi e nel caso delle brem cioè nella sessione che dicevi prima dove c'è tanto peso di disturbo che hai detto uscita utilizzato uno spinner e rig con una 30 si è innescato sì singola 30 fondali hai tenuto il cappello un po più distanziato allora è allungarlo per evitare che magari la pesce disturbo andandoci contro la balla la boilers rischia di agganciarsi allora la classica lunghezza che tengo io personalmente è la classica che si fa quando passa la curvatura del lamo stacco quei mezzo centimetro e mi fermo ok ho pescato così non ho staccato più di tanto perché comunque sia c'era una bella mobilità lei rig legato con l'anellino sul gambo quindi c'è tanta mobilità con il gommino il fatto di distanziare la rig si potrebbe dare una buona mano a non essere disturbati dei pesci disturbo soprattutto io ho notato che il distanziare l'esca dal dal lamo può farti carturare anche magari quel pesce un po più di taglia con un po più potenza nell'aspirare ma è molta teoria che prende più teoria che prende in pratica tu non legge è una cosa che è una che vale come teoria però tu in pratica non l'ho messa in nato però posso dirti che su 18 19 pesci con due persone 6 canne non abbiamo fatto un pesce che sia a scartola quindi tu sei andato a innescare quindi quella che è nel vostro catalogo la harduk bait da 30 mm da 30 mm e sei uno che piace di parle oppure c'è un periodo che preferisci di parle allora le tini così come dentro nel barattolo e le innesche basta allora gli inneschi mi piace addizionarli con il bite spray quindi spruzzatina ma già quando quando lo prendo e porto a casa che magari non so se andrò a pesca oppure papà due tre spruzzatine glielo faccio prendere bene poi magari ci sta che sul luogo di pesca prima di andare a calare in frescata ne tengo sempre uno in barca che dovesse ricalare al volo slamo in pesce eccetera spruzzatina se il terminale ok spruzzatina e ricalo a questo qua tu lo fai in un periodo dell'anno particolare o è proprio un approccio che fai a 355 giorni l'anno gli inneschi mi piace sempre un po' addizionarli si e invece un po' la pasturazione quando tu peschi nei grandi laghi come la sessione che appena detto vai a pasturare solo big biting oppure le addizioni anche con un po' di top bait allora nel periodo caldo quindi parliamo periodo estivo nel periodo quello più 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 frequentato diciamo faccio una buona quantità di big baiting e aggiungo anche le top il discorso dell'acqua più calda o uno sfaldamento più veloce della big baiting mentre la top mi rimane di più in acqua mi faccio un po' più bravo il tappeto che magari se poi mi si alza il vento perché nei grandi laghi può capitare non riesco a ricalare comunque sia si sull'innesco l'hardtug bait che sta lì non c'è dubbio anche perché sono la 72 ora si 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 ma soprattutto la 30 poi no certo infatti più andiamo su di diametro più abbiamo sto vantaggio e mentre nel periodo che magari invernale in periodo invernale uso le big baiting che sono molto più leggere mi si magari mi si sfaldano prima mi danno mi danno tutto prima e mi danno più attrazione diciamo nell'immediato mi lavorano molto di più più velocemente e lì vai di parla tipico tipo con il liquido attrattivo oppure butti giù con allora liquido attrattivi si glieli faccio prendere bene nei giorni prima faccio metto tipo il liquida 30 in busta le chiudo mescolo io le faccio assorbire bene però magari non tutte ok 5 kg ci faccio solo la metà sul sacco a 5 kg metà e l'altra cosa che sto notando attivamente che sembra andare bene è il discorso di pasturare con due gusti diversi che non sia tanto per i gusti ma proprio due colori contrastanti io poi fai attrazione che del senso visivo ad esempio faccio un esempio attivamente stiamo sto utilizzando ad esempio new age con banana sì perché una gialla la banana e la new age che è tipo marroncina non non proprio prettamente per i gusti è proprio di colore dopo sono due palline che messe da sole fanno sempre hanno fatto sempre paura quindi tu dici vado a giocare anche dal punto di vista colori ma mescoli anche i diametri oppure quello invece se è standard rimane sul diametro cerco sempre rimanere 20 20 se pesco 25 la canna con solo quelle 25 se dico quella canna va con le 25 e come montatura di pesca pensi di cioè tu usi sempre il sistema bolt tu non peschi mai con le line presunto no no con il piombone nei grandi laghi usi tanto lo sasso oppure ti affidiamo le piombite il sasso quasi mai quasi 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 mai sasso perché non soprattutto il sasso lo vedo più per una bassa profondità a mio parere tipo sotto 3 4 metri andando più giù dopo mi gira troppo mi ci sono dei sistemi per far sì che rimanga sempre distante però non mi da quella sicurezza con la certezza che io sto in pesca bene certo ok visto che comunque sia è una pesca dove si cala la lenza e si aspetta francesi tra virgolette non mangia sperando restare lì magari dopo qualche ora dici ma chissà se il sasso è caduto sopra mi sta messo a dire io vado giù diretto di piombo che sono sicuro al 100% che stavano le prossime 24 ore so di essere in pesca e stai sereno i piombi sono stati fatti per fare quel lavoro per scendere grandi profondità certo quindi piombo classico grippa forato che scende bene non girano quello è il lavoro di loro poi se rimango senza piombi che ho tutto dietro per fare camere d'aria facette quello che può essere io ti spiego perché io sono invece uno della teoria del sasso perché ma non tanto perché non voglio utilizzare il piombo ma perché è l'unico sistema che mi permette in ferrata di sganciare e io ho notato quando perché anch'io ho frequentato i grandi laghi dopo non ho la possibilità di poterli frequentare come te perché i miei spostamenti sono tanti certo il tempo di sposizione è poco e comunque una sessione grande lago bisogna farla meno di due notti almeno se no è più la tribolazione come si dice che esatto anche per i tempi dopo sono più lunghi per entrare in pesca e il gommone ma rimane che quando ho pescato e il sasso va a sganciare se mi trovo la lenza che è completamente libera da una zavorra e soprattutto quando combatto pesci che si trovano magari vicino degli ostacoli questi si alzano perché hanno non sono trascinati giù dal peso del del piombo e riesco a liberarmi meglio dalle contatto diretto col pesce si infatti io quando ho pescato a bolsena che si pescano messe i bucchi degli erbari avere il sasso che si sganciava mi permetteva di farle andare fuori da quell'erba il bolt la led clip se è fatta bene che fa il lavoro suo comunque sia al primo strattone che sente magari c'è qualche ostacolo che si incaglia dovrebbe sganciare il piombo io vedete il sasso adesso mi ha fatto venire pensato l'ho usato a viverone a viverone ormai 8 9 anni fa pescavo vicino a delle ninfee a lunga distanza non c'era lunga distanza e per avere proprio il contatto diretto legavo il il sasso con 0 18 0 20 avevo un filo e già lo rompevano indire io usavo camera d'aria però effettivamente è vero c'è lo usavo anche per il discorso che se non prendevo e non poteva uscire per andare a recuperare la canna una volta staccato recuperavo d'arriva cioè così era tutto più morire perché non è stato un po di via maria fosse il piomo fosse anche 280 trietti per 500 mesi si diventa un lavoro e la lunghezza terminale la scegli in funzione del fondale lunghezza del terminale utilizzi sempre uno standard faccio per la maggior parte dei casi il classico 20 25 centimetri in rari casi mi allungo ma sempre con un terminale rigido sempre sempre travi rigido quindi tu utilizzi tantissimo il bunker impabile e tu sei uno che fa tantissimi travi di bunker impabile tu raramente utilizzi la treccia no no da quando è uscita questa tra virgoletta come chiamarla moda però è funzionale funzionale se peschi in fondale particolarmente molli ad esempio pusiano ci dovrai andare perché ho finito questo video ci puoi dire si si ci può dire si può dire è lì adesso io ci ho pescato io non tutto pusiano ma una buona parte ad esempio in marzo c'è una è molto molto ok io lì mi sono allungato molto i terminali sarà un approccio che farei anche tuo tuo rimanere sempre fedele la tua lunghezza allora magari potrò allungare sempre il terminale resta sempre il fatto che allungando terminale con così al non cambia l'esito rimane sempre spinner arriva sempre magari sia molto se molto molle posso optare magari per il discorso pop up e quindi oltre ad allungarlo magari 8 10 cm quello che uno vuole più gli piace con il discorso pop up mi scenderà sempre più lentamente estremamente bilanciato quindi anche la pasta antonio steno che andrò a mettere magari o il pesetto quello che è sarà giusto che per quello che non tocchi per far sì che ho lasciato critico ok ok perfettamente perfettamente bilanciato e l'utilizzo è un chod oppure no le mani sempre fedele al tuo spinner quindi abbiamo capito di vedere la situazione che si trova sotto però chod mi piace più nel lancio ultimamente siamo stati a bolzena al lancio anche con l'elicottero e lì sai lì hai la certezza che tu voglia lanciare piano voglia lanciare lungo e forzare un bel lancio hai la certezza matematica che non si intreccia niente non si incaglia niente certo quindi tu sei sicuro che a lunghe gittate hai la possibilità di arrivare sul fondale sullo spot con un terminale perfettamente in pesca perfettamente in pesca però tu allora a questo punto presumo domanda te la faccio giusto perché ma mi sembra aver capito che te sarai uno dei pochissimi a non utilizzare la bombetta visto allora peschi la bombetta l'ho utilizzata per un periodo di tempo soprattutto in inverno nelle cavette che avevo vicino casa quando ho avuto un bambino da poco per vari mesi non sono potuto muovere sfruttavo quei laghetti dell'epoca certo per fare qualche ora di pesca e d'inverno usavo le domenette usavano mentale usavi sì perché periodo estivo con tartaruga eccetera non si può sì ok queste cavette ne sono piene quindi periodo di gennaio febbraio marzo con acqua veramente fredda la bombetta è la sua morta mi fa piacere differenza tra o meno come ti approcci te tra vado e pesco e un lago che conosco ormai a memoria facciamo esempio presumo devi capire cacca ma dovresti conoscere perché l'esperienza che ti sei fatto avendocela anche vicino a tanta quindi come ti approcci su un lago che ormai conosci a memoria e su un lago che è la prima volta che tu immergi le lense cosa fai quando arrivi su un lago che non conosci quando arrivo sul lago che non conosco le paranoie mentali chiamiamole così sono infinite ok la prima cosa è scandagliare prendere prima cosa prendere più informazioni possibili da chi prima di arrivare informazioni non parlo di punti gps parlo di informazioni parlo di informazioni prende informazioni possibili quindi magari per quel periodo quale zona è più buona cioè se c'ho un amico o una persona fidata che abita lì che sa che può pescare come se tu vuoi venire a pescare come ti dico guarda vengo su dove posso mettere ci sta domande è che vanno benissimo quindi prendere informazioni possibili cercare una postazione che sia nella zona in cui abbiamo individuato e poi iniziare a scandagliare e cercare i punti di tutti sarete tanto l'ecoscandaio tanto tempo tra virgolette perso che non è mai perso anche se in attimo c'è il momento di crisi che dice non ho niente sotto fermo seduto magari fumo una sigaretta torni a riva e poi riparti vai a ricercare quello che vuoi fare diciamo che l'approccio in un lago soprattutto se per te è nuovo non è mai quello di dire ho fretta di entrare in pesca no perché preferisci prendere il tuo tempo ma quando hai calato meglio un minuto di meno nel posto giusto che sette giorni in un posto dove non che sarà in attivo ma la posturazione poi cambierà in funzione del luogo in cui tu vai nel senso un lago che conosci bene e un lago che invece è la prima volta che immergi le enzze la posturazione sarà sempre la medesima l'approccio di posturazione sarà sempre quello oppure hai due strategie diverse no non sarà sempre uguale perché in un posto che conosco facciamo esempio cacca ma te la tu vuoi prima vado giù so che sono in questo determinato periodo so che i pesci girano possono girare passano di qui non esito a mettere magari il classico due segnalini nella diagonale che prendo varie profondità ci sparo dentro tre canne e ci butto magari 15 kg di palline così primo giorno perché magari so che possono passare determinati pesci eccetera il periodo è buono e quello lì in un lago nuovo cerco di andare così come a primo approccio come fosse la prima giornata in un lago nuovo prima prima notte in un lago nuovo vado per un pesce alla volta quindi classico ne so due pugni sopra l'inesco qualcosa sparpagliato intorno e per per testare quello che è lo spot quello che c'ho la propria postazione che ho quindi due strategie completamente diversi si si completamente di abbondi da una parte dove sai già che le intercetterai la conoscenza ti da spavalderia invece sai vai più cauto dove invece per resumi che lo sport sia buono però però con i piedi di piombo anche per non magari non per non sprecare la pastura però per non dare magari domani cambio perché lì non mi piace comunque si hai fatto un po di pastura lì un po di pastura poi magari dopo due giorni se vedete quanto è lunga la sessione ti entra i pesci e dici magari quel discorso lì capito ecco magari quando invece che hai individuato uno sport molto produttivo magari allora lì posso aumentare per cercare di bloccarne più possibile e di sfruttarlo al meglio questo sport qua ottimo e ultima domanda che ti faccio perché non l'ho mai fatto a nessuno ma è semplicissimo ma lo sfrutto perché avendo uno che pesca prevalentemente il 90 per cento di pescate nei grandi laghi quindi sarai uno che utilizzerà la treccia in bobina si per forza si e la diatriba è affondante o semi affondante perché io ho la mia teoria però voglio conoscere anche la tua cioè tu carichi il mulinello con una treccia e quella è indipendentemente dove vai a pescare oppure adatti anche quella in funzione dei luoghi in cui tu vai allora non sono uno che va a cercare chissà quale treccia però se mi chiedi la differenza tra uno e l'altro ti posso dire la mia allora treccia galleggiante nini se troppo galleggiante se troppo galleggiante che abbiamo problemi con la barca se non usiamo back led se usiamo mentre usiamo back led un così al discorso che ci si formi un loop tra noi tra il back led e la lenza potrebbe essere se non è messa bene in tiro eccetera potrebbe avvenire questo la treccia affondante per quanto possa essere la salvezza in molti casi potrebbe essere il dolore in altri bravo per il discorso per il discorso del fondale per discorso di fondale ostacoli che non abbiamo notato con l'eco perché non è che noi tra noi e lo spot abbiamo visto millimetro per millimetro e anche abbiamo visto sappiamo che non sai mai quello che è effettivo una fila di cozze che magari che non potrei mai vedere non potrei mai vedere con l'eco scandaglio magari e quindi sicuramente affondante io direi quasi no quasi no pronti dico non sono non sono uno che dice treccia metto la treccia poi cerco di adattarmi a magari la situazione in cui si presenta se vedo che mi si taglia la treccia prima partenza o che magari anche solo con il recupero magari mi prendo gli accorgimenti con delle boette per tenere staccato il filo eccetera per sollevarla su quell ostacolo per evitare che si tagli si ottimo allora sei pronto per Pusiano adesso te? si si adesso pranziamo e andiamo ascolta e per me Pusiano è la prima volta quindi anche la domanda che mi hai fatto prima ti ho risposto proprio sinceramente quindi adesso tu a Pusiano allora farai quello che tu hai detto nel video si ho già l'agitazione dentro ma in che postazione sei? allora andremo faremo un sopralluogo al lago perché c'è stato detto che il lago è molto alto quindi molte molte postazioni sono sommerse quindi faremo un giro del lago vedremo quali sono agibili e poi vedremo quale ci andrà più a genio se tu e Michele siamo io e Michele no siete voi due la coppia che spacca speriamo quindi allora attendiamo le vostre catture speriamo speriamo dai dai per me è andato in condizione di lago non particolarmente facile ha visto le alluvioni gestate le forti piogge se poi mi dici che comunque non tutte le poste sono agibili vuol dire che insomma forse quelle più profigue non saranno manco agibili col discorso io comunque dai le armi le avete si 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 e con che bollis pensi di entrare in pesca? new age banana ah proprio quelle che hai detto? new age banana ormai è quella lì il tuo binomio che non si... new age banana e lì si spacca quando si esce di casa new age banana allora quella è la pasturazione e la 30 millimetri? 30 millimetri new age new age new age e magari Michele mette la banana eh anche così fate un misto certo ma farete stesso approccio tutti e due di pasturazione o ognuno è il suo? penso di no ognuno è il nostro adesso non l'abbiamo ancora parlato io optavo subito per la pasturazione mista diciamo ma penso Michele no non so adesso dovremo ancora parlarne ottimo allora io non mi resta che farvi in bocca al lupo per la vostra sessione a Busiano e grazie per essere stato ospite da me un piacere e niente noi ci congediamo dal nostro pubblico se il video vi è piaciuto ragazzi like il video e se volete fare delle domande a Diego per quanto riguarda le strategie di pesca nei grandi laghi e adesso vi potrà fornire anche la sua esperienza nel lago di Busiano fatelo sottostante i commenti in questo video e dopo se non sarà Diego a rispondere perché magari non si accorgerà dei vostri commenti lo avviserò io perché vorrò che sia proprio Diego stesso a darvi tutte le informazioni e a rispondere a tutte le vostre domande noi non ci resta altro che salutarci e darci appuntamento a giovedì prossimo che ritorna il consigliato da Carfishing Online ragazzi da Diego e da Nicola un abbraccio